750 mila euro per la mensa scolastica, oltre 400 mila euro per la pubblica illuminazione ed energia, 80 mila euro di parcelle per avvocati. Sono solo alcune delle spese sostenute lo scorso anno dal comune di Molfetta ma pagate con i fondi del 2013. Se a queste si sommano le passività del 2012, prive di copertura finanziaria e non ancora liquidate, si può avere un'idea finalmente chiara dei 2 milioni 623 mila euro di debiti fuori bilancio certificati dallo schema di rendiconto relativo al 2012, approvato solo qualche giorno fa dalla giunta Molfettese. Il sindaco Paola Natalicchio, affiancata dall'assessore al bilancio Angela Amato, ha voluto rendere nuto questa mattina in conferenza stampa i risultati della rendicontazione effettuata dai dirigenti del comune e delle spese sostenute lo scorso anno dall'amministrazione Azzolini, che ha governato per 10 dei 12 mesi del 2012. Nonostante l'avanzo formale di 155 mila euro, ha spiegato l'attuale primo cittadino, ne viene fuori una gestione dei fondi comunali assolutamente irresponsabile. Un bilancio di rendiconto che formalmente chiude con un avanzo di 155 mila euro, ma dopo un lavoro attento del mio assessore al bilancio, dei nostri dirigenti, di ricognizione di quelle che erano le spese non coperte del 2012 e le spese del 2012 pagate svuotando le casse del 2013, siamo arrivati a contare 2 milioni e 600 mila euro di debiti fuori bilancio. Debiti che riguardano le partecipate, ma debiti che riguardano anche servizi essenziali come la mensa scolastica, come l'illuminazione pubblica. Questa era la gestione virtuosa di Antonio Azzolini, queste sono le capacità di gestione dei soldi pubblici del Presidente della Commissione Bilancio al Senato. Io spero che a Roma non combini gli stessi disastri che lasciano le nostre mani a Molfetta. I debiti del comune non devono spaventare, assicura ancora la Natalicchio. attraverso una gestione virtuosa del lente riusciremo a non mettere le mani nelle tasche dei cittadini molfettisi. Noi abbiamo scelto la strada unica, che è la strada della verità. Abbiamo tracciato una linea con il passato, ci saranno dei mesi complicati, ma quello che vogliamo fare è soprattutto un taglio agli sprechi che ereditiamo e nel bilancio di previsione 2013 avremo naturalmente la difficoltà di coprire un fa bisogno di oltre 4 milioni di euro in più, ma lo faremo cercando di non gravare sui cittadini o comunque spiegando ai cittadini le ragioni di ogni nostra scelta, perché da questo momento in poi i conti si gestiscono in trasparenza, con rigore, in un'ottica di risanamento profondo, perché l'unico modo per amministrare i comuni è cercare di essere seri e non dei buffoni di corte, come ci ha preceduto, che ci ha vessato con dei manifesti, ci avevano messo i manifesti del pallottoliere, dicevano non sapete fare i conti, ebbene noi li abbiamo fatti i conti, adesso parliamone.